Ma ci rispondono seriamente. La strada di salute in questo momento è non moribondo, morto. Io purtroppo sono un po' cattivo, morto proprio no, però c'è poca vita. Le nuove generazioni fanno molta fatica, fanno molta fatica un po' perché noi abbiamo fatto un po' che tutta cosa, per cui rinnovarsi è complicato e poi anche perché non ci sono i contesti giusti come li avevamo noi. Noi avevamo dei programmi meravigliosi, avevamo Mai Dire Goal, avevamo le trasmissioni della Dandini, Cuzzanti, per cui i contenitori, i contesti erano veramente forti. Adesso non esistono più, sono solo passerelle di comici, passerelle di comici che nascono purtroppo direttamente davanti alla telecamera, per cui non hanno nessun background, nessuna esperienza attoriale e allora diventa tutto molto effimero e tutto molto purtroppo povero, mediocre.